Ciao a tutti, sono Paolo Belli. Il 18 ottobre a San Donato di Piave, assieme ai miei amici della Nazionale Cantanti, faremo la partita più brutta della vita calcisticamente, ma la partita più bella, perché daremo il nostro contributo a delle persone a Cuba che ne hanno veramente bisogno. Vi aspettiamo, io sarò la palla, quello che rotola in campo, però io voglio vedervi tutti. Ciao!